Sì, con i cavalli abbiamo fatto terzi, per cui va bene, finché siamo sul podio va sempre bene, è chiaro che siamo venuti per vincere ma non può sempre andare bene, comunque siamo contenti, in queste squadre abbiamo sempre inserito dei nuovi binomi, giovani per cui fanno esperienza con altri che hanno già fatto e questo aiuta a formare un po' la squadra, ma comunque il risultato c'è stato, ottimo risultato dei poni invece perché in maniera brillante hanno chiuso con zero penalità e per cui abbiamo vinto bene, questo sempre grazie a tutti gli istruttori che li portano fino a qui, noi organizziamo alla fine gli ultimi preparativi, diamo le nostre divise, tutto quello che possiamo dare per apparire in forma e soprattutto in maniera elegante. Hai tantissimi binomi nella tua regione, è stata difficile la selezione? No, direi di no, perché poi insomma quelli che si distinguono veramente negli ultimi giorni, cioè un po' alla vigilia delle selezioni non sono così tanti, è una fortuna averne tanti perché abbiamo più scelta, con i poni accediamo già da quelli che fanno parte del Green Team, Gold Team e comunque non si esclude nessun altro, in caso di ottimi risultati noi vogliamo il risultato finale qui, per cui chiunque ci garantisce questo va in squadra. Grazie Presidente, complimenti. Grazie a voi.